Grazie eccellenza, dunque l'Inter vorrebbe che un segretario di Stato prima di portare in discussione un provvedimento lo discutesse in degli incontri con le parti socialmente interessanti, categorie, sindacati eccetera, poi con incontri nella maggioranza, poi con incontri con l'opposizione e infine provveda a fare il deposito a discuterlo in aula. Questo iter è sicuramente stato difficile nella fase iniziale della legislatura, c'era il Covid, quindi era anche impossibile riunirsi, ciò nonostante si è ritenuto all'epoca di fare degli incontri e cercare di condividere nel limite del possibile anche con l'opposizione i provvedimenti, ma certamente in maggioranza. Successivamente questo limite del Covid è venuto a mancare, quindi i confronti si sarebbero dovuti senz'altro farli e c'è chi li ha fatti, c'è chi li ha fatti. C'è chi prima di portare in aula in discussione un proprio provvedimento ha sempre fatto gli incontri con la maggioranza proprio per evitare di fare una forzatura, perché è ovvio che se un segretario di Stato porta in discussione una norma in aula consigliare di fatto costringe la maggioranza a votarla, se non l'ha condivisa precedentemente. E che non sia stato condiviso precedentemente non solo lo ha detto il consigliere Valentini, ma lo ha confermato anche il consigliere Dolcini, il quale ha detto, beh come non c'è stato il confronto, l'abbiamo depositato il provvedimento a giugno, leggilo. Ecco questo ha detto Dolcini prima. Tra l'altro Dolcini ha finito il suo intervento, io spero di aver sbagliato, di aver sentito male, ma ha detto c'è anche chi non la pensa come me, ma i fatti mi danno sempre ragione. Questa è la fine dell'intervento. Forse ho capito male io, ma se non ho capito male, questo fa la quadra con l'atteggiamento che ha sempre tenuto il segretario di Stato Righi. Guardate, qui prima il segretario di Righi ha detto no ma Rete ha un'impostazione diversa rispetto al nostro partito, quindi è ovvio. Ecco, se l'impostazione di quel partito è quella per cui chi la pensa diversamente da me è tanto la ragione ce l'ho io, oppure quella che come mi ricordava prima qualcuno durante il Covid il segretario Righi in congresso di Stato ebbe a dire vabbè insomma questo nel periodo romano si interrompeva la democrazia in fase di questa grande difficoltà, dovremmo fare altrettanto. Se questa è l'impostazione, un'impostazione al limite dell'autoritario del regime, certo che c'è un'impostazione completamente diversa. Dopo la variazione di bilancio di agosto di quest'anno, laddove abbiamo dovuto impiegare tre sessioni consigliari, io ritenevo che sarebbe stato chiaro una questione che è ineluttabile, ovvero il fatto che una maggioranza composta di 31 membri, che voglio dire quindi ha una grande difficoltà solo per il fatto che ha un'opposizione numericamente consistente, avrebbe dovuto portare solamente atti condivisi. Quello che diceva prima Valentini, cioè la maggioranza ha detto abbiamo questi tre obiettivi, questi tre obiettivi dobbiamo portare avanti, tutto il resto per forza va condiviso. Come fai a non condividere un provvedimento in questa situazione, ti vieni in aula a scontrare e a non portare a casa niente. Ma si sa, poi è come le ciliegie, uno porta un decreto, vuoi che non lo porta quell'altro, vuoi che in una fase finale di legislatura ognuno non debba mettere la sua bandierina e allora siccome alcuni hanno sempre considerato una scocciatura, un qualcosa che bisognava fare, quello di fare qualche confronto. Però poi come scrive lo stesso segretario Righi nella risposta all'interpellanza che ci è appena stata consegnata, dice io i confronti li ho fatti con le categorie, mica con i sindacati, perché questa legge non ha impatto sul lavoro. La segreteria decide che questa legge non è e non deve essere di interesse del sindacato, ma è un'impestazione solita che ha ripetuto in tantissime occasioni, questo è coerente insomma nella sua attività. Bene, in tutto questo qualcuno all'interno del gruppo di Motus, del partito di Motus, la consigliera Andruccioli, che io considero veramente una persona cristallina anche dal punto di vista intellettuale, quindi insomma un po' mi dispiace che si faccia tirare in queste posizioni da parte del suo segretario. Beh, confessa, dice vabbè ma è normale che abbiamo portato questo decreto, era impossibile portare la legge, ci voleva troppo tempo e allora noi facciamo il decreto, così bypassiamo i problemi dell'aula consigliare. Qui tutti, lo ha detto anche mi sembra Nicola Renzi prima, tutti continuiamo a ribadirci che ci sono dei problemi costituzionali però nessuno ci mette mai mano e cosa facciamo? Siccome c'è un problema lo bypassiamo evitando il dibattito? Non è che siccome non si fanno le riforme costituzionali allora ce ne freghiamo del dibattito consigliato. E guardate, c'è un altro modo per bypassare questi ritardi, lo dico veramente in tutta onestà, piuttosto che fare delle forzature che poi conducono a questo. Qualcuno prima ha detto ne discuteremo due giorni, no no, questo decreto non viene portato a casa perché ci sono già calendarizzate le istanze da rengo, oggi abbiamo finito, ma di cosa stiamo parlando? Ci sono 50 emendamenti, noi stiamo qui in aula consigliare a dibatterci attorno su un decreto che magari contenutisticamente ci va anche bene, però siccome ci siamo incaponiti allora il segretario di Stato adesso è una questione di principio e quindi stiamo qui a buttare via un'intera sessione consigliata. L'altra modalità per velocizzare il lavoro, sapete qual era? Dare un colpo di telefono, incontrarsi e cercare di condividere il testo, ma condividere il testo non significa, come intende il segretario Righi e lo ha più volte detto, ah ma io glielo ho consegnato il testo prima di depositarlo, no no, condividere il testo significa anche modificarlo, significa anche trovare una quadra con l'aula consigliare di modo che non ci sia un dibattito in aula perché è stato fatto precedentemente, questo è il confronto, se non si capisce questo voi capite che non c'è nessun tecnicismo che possa reggere, ricordo anche che in passato sui trust avevamo fatto una norma, era stata fatta una norma che sostanzialmente prevedeva che non fossero tassati i trust a San Marino, successivamente abbiamo dovuto rivedere quella norma per aumentare la tassazione perché siccome l'avevamo messa troppo bassa dovevano pagare le tasse in Italia, allora capite bene che il confronto delle volte, cioè con il principio facciamo pagare di meno, togliamo la burocrazia, spesso facciamo il contrario, peggioriamo le situazioni e forse l'aiuto di tutti potrebbe servire a risolvere qualche questione, ecco dicevo quindi qui non è una questione di chi blocca chi, scusate cari colleghi di Motus, ma vi pare possibile continuare in questa questione del calimero piccolo e nero che ce l'hanno tutti con noi, ma santo Dio, ma se tutti, tutta l'aula consigliare, prego per le conclusioni, grazie eccellenza, vi sta dicendo c'è un metodo che non funziona, avete un metodo che non funziona, ma è possibile che ci sia messi tutti d'accordo? Possibile? Scusatemi, è possibile che ci sia messi tutti d'accordo? Oppure c'è veramente qualcosa che non va? In questo progetto di legge e termino eccellenza, noi per la prima volta stabiliamo che i decreti da adesso in poi possono abrogare quello che vogliono, con questo decreto diciamo che i decreti possono abrogare, non solo diamo all'interno del decreto il mandato per fare altri decreti, cosa che a me dallo studi legislativi è stato sempre detto non è possibile farlo, è incostituzionale, non puoi procedere, adesso lo si fa, allora voi capite questa non è semplificazione normativa, questo è un disastro normativo che viene perpetrato unicamente da parte del segretario di Stato Righi per portare a casa la bandierina che è una bandierina condivisa perché i tecnici voglio dire certamente fanno il loro lavoro, fanno il lavoro che gli viene richiesto e certamente fanno l'interesse dello snellimento delle pratiche per le società. Qui volendo mettere la bandierina si impedisce che venga fatto un provvedimento normativo.